8 luglio Area Mercatale Nardò 30 luglio Lungomare Bari-Palese Extraordinary Dance Show Night of Stars 2017 Frozen Show DJ Set Luca Conti Voice Patrick D'Alessio Aerial Dance Show Special Guest Cosimo Barra Amici 2017 Night of Stars 2017 Un evento Bodice Expression Dance Academy Evolution DJ Service La cosa vera Non smettere di sognare No smettere di sognare 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 di sogn